Claudio è l'entità che impartisce l'insegnamento del conosci te stesso. Voi mi ricordate che anche Claudio ci parla del divenire dell'uomo, certamente per farci capire che l'uomo deve sentirsi un essere, non un divenire. Voi pensate alle fasi successive della vostra esistenza come a delle promozioni in carriera, come un impiegato può passare a diventare capo ufficio o direttore cambiando le sue mansioni, ma non il suo essere. Non si raggiunge mai un nuovo essere col divenire. L'essere è del sentire, della coscienza, per voi del corpo acasico, il divenire è del corpo mentale. Voi potreste conoscere tutte le cose che conosce un maestro, ma questo solo non vi renderebbe tali. Solo il sentire appartiene alla realtà dell'essere. Così, quando osserviamo un'esistenza individuale nelle sue fasi comprese dal selvaggio al superuomo, Noi non osserviamo un selvaggio che diviene superuomo, ma osserviamo le molteplici fasi di esistenza, cioè di essere, di quella individualità. E poiché le fasi si susseguono dal più semplice al più complesso, voi dite che l'individuo evolve. Noi pure lo diciamo, le parole sono le stesse, ma ciò che vogliono significare è profondamente differente. Questo sarebbe meraviglioso in politica, ma siccome noi politici non siamo, quando parliamo vogliamo significare qualcosa, così, quando diciamo che l'individuo evolve, non intendiamo dire che l'individuo diviene. Un'esistenza individuale è già tutta completa in sé, niente può aggiungersi ad essa. Così evolvere non può significare crescere, ma può voler dire solo che i differenti sentire di quell'individualità si manifestano, vivono l'attimo eterno dell'esistenza. Ciò è incomprensibile se si crede che l'emanato si sviluppi in un tempo oggettivo, staccato da Dio, vivente una realtà senza tempo. Ecco l'errore fondamentale che ha afflitto le teologie di tutti i tempi e di tutti i popoli. L'emanato fa parte integrante di Dio. La sua esistenza fa parte dell'esistenza di Dio. Ecco perché non può esservi un reale divenire nell'emanazione.